salve ragazzi ragazze come state tutto bene benvenuti di nuovo al lion bull academy dai spero tutto bene siamo ancora in estate bella giornata oggi volevo fare un video sul rischio sì il rischio e spiegando un po su cos'è il money management o il controllo del rischio perché e volete o no è molto importante sapere avere un buon controllo del rischio allora questo è un video più generale non ci saranno grafici né niente sennò che una chiacchierata fra di noi più generale poi fare un video spiegando già preparate strategie di controllo del rischio perché le potete utilizzare anche voi e vi aiutino nel vostro trading perché penso che sia perché appena cominciato sarebbe una bella cosa e chi già lo fa da tempo può compararla con 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 la sua dai il controllo del rischio il risk management o money management si potrebbe dire c'è la prima cosa è che cos'è il rischio e quanto quanto vuoi rischiare dal tuo portafoglio già sapete rischioso è tutto nella vita per esempio anche se per esempio comprate un appartamento e lo volete affittare c'è il rischio che non lo affitti nessuno che l'affitti brutta gente non ti voglia pagare o che lo rompano bene c'è il rischio in tutto anche nell'immobiliaria dai noi possiamo trovare tre punti molto importanti il rischio del capitale quanto capitale vogliamo rischiare per ogni operazione potrebbe essere l'uno due il tre il quattro cinque per cento del tuo capitale in ogni operazione poi c'è il rischio per l'operazione dentro di quella operazione che avete aperto quanto volete rischiare dentro quell'operazione se avete aperto per esempio avete un conto di 10 mila dollari e avete aperto un'operazione con rischio 5 per cento che sarebbe 500 dollari e volete fare il controllo del rischio del vostro trade della vostro della vostra operazione potete per esempio mettere che se perde 100 dollari quei 500 che avete investiti chiudete l'operazione se perde 250 va bene quello è il controllo del rischio per operazione e poi l'ultimo c'è la massima esposizione esposizione va bene che sarebbe quante operazioni in totale volete avere aperti che volete avere a rischio nel vostro day trading o swing trading o trading a lungo termine diciamo un esempio voglio avere massimo 10 operazioni dal 5 per cento l'una allora se già avete aperto tutte 10 le operazioni aspettate finché non chiedete una in profit o in perdita poi un'altra cosa nel rischio c'è anche il reward il rischio beneficio per esempio se avete quella operazione e volete perdere quei 100 dollari che vi avevo detto però anche se dovete controllare il guadagno potete fare almeno è interessante avere l'1-1 se rischiate 100 di perdita nello stop loss dovete avere altri 100 di beneficio nell'operazione allora vi servirebbe una strategia che almeno abbia il 60% di probabilità di successo per poter essere profittabili durante il mese la migliore cosa è avere il risk reward più elevato per esempio rischiate 100 però guadagnate 150 o 200 così la vostra strategia non deve essere così perfetta basta che ne azzecchi almeno il 50% anche il 49% 48% che potete essere in profitto a fine mese ok? Quella è l'altra cosa lo avete visto? Non c'è tanto da dire lì rischio per capitale la percentuale che volete mettere dentro l'operazione per ogni operazione che aprite poi rischio per operazione dentro quell'operazione che avete già aperto per esempio col 5% i 500 dollari di 10.000 e quanto ne volete perdere se va male e quanto volete guadagnare quello è il rischio per trade ok? Per operazione e l'ultimo è la massima esposizione che sarebbe quante operazioni massime potete avere aperte allo stesso tempo durante il vostro trading potete anche fare altre cose come per esempio dire se io ho un massimo in generale di perdita di 100 dollari 200-300 chiuso tutto e me ne vado capito? Dovete avere anche quello in considerazione ci sono tanti modi vi ho detto vi farò un video a parte preparando una per esempio per i toro e l'altra per trade view così potete anche voi provare a utilizzarle in demo anche voi adesso un'altra cosa che volevo dire è molto importante perché non l'ho messo neanche nel titolo però mi sembra interessante da dire importante da dire la verità è di fare molta attenzione perché volete o no è molto pericoloso e molto facile perdere soldi qua e c'è alcuni che lo prendono come un gioco è diventata anche una ludopatia sarebbe una malattia di diventare ossessionati con il gioco questo diventa più un gioco e vabbè siete libri di fare quello che volete con i vostri soldi perché ognuno può fare quello che gli pare con i soldi però le dico se veramente fate questo seriamente come lavoro vi consiglio di stare attenti quello è molto importante un'altra cosa c'è stato un paio di mesi fa un ragazzo e che non ho neanche fatto video quando era successo perché per rispetto alla gente non ho voluto farlo neanche vado a dire nomi e niente però vabbè un ragazzo che investiva in Robinhood il broker americano che c'era molto di moda adesso aveva investito mi sembra che 20 e passa mila dollari vabbè non mi ricordo non era tanto il capitale piccolo è un capitale normale di retail trader di trader privato in opzioni aveva investito in opzioni sì ancora non ho fatto il video di opzioni lo farò non vi preoccupate sto preparandolo in opzioni cosa è successo nel fine settimana si blocca tutto come voi sapete non si può investire nelle azioni e a lui è uscita un'immagine nel suo telefonino dell'applicazione che era in perdita perché in opzioni puoi perdere più del capitale investito di 750 mila dollari roba del genere una impressionante e il ragazzo si è suicidato quello non dovrebbe succedere mai ma proprio mai il più importante qua è la vostra vita non i soldi che avete lì sì uno pensa che la vita è rovinata no non è si può uscire fuori da tutto si può trovare un accordo per pagare un modo di pagarlo si può trovare non bisogna fare mai quello perché il più importante alla fine noi stiamo investendo per trovare libertà finanziaria è trovare il tempo noi investiamo il nostro tempo per avere più tempo poi nel futuro quello è quello che stiamo facendo allora non ha senso totalmente quello che è successo lì e non dovrebbe succedere mai prima di tutto se non avete le conoscenze per fare una cosa per favore fatela soltanto in demo io per esempio ancora sto usando la leva 1 non uso neanche leva nelle opzioni c'è leve esagerate per quello ci sono quelle perdite puoi fare tanti soldi in leva come anche voi sapete nei toro con i cfd ci possono fare tantissimi soldi quando compri o vendi in leva sì ma si possono perdere anche tanti noi abbiamo la bellezza di avere il non c'è perdita in negativo sarebbe che non potete mai perdere più di quello che avete investito grazie a dio c'è quella regola qua in europa però in altri paesi non c'è perciò state molto attenti ricordate valutate molto di più poi la vostra vita poi studiate bene avete questo canale anche per quello per poterlo studiare bene fate tanta demo che grazie c'è la demo per poter fare all'inizio sì lo so tutti abbiamo bisogno di soldi anch'io ho fatto all'inizio poi vedrete il mio video su di me e vedete che anch'io ho fatto un sacco di cavolate non voglio dire neanche parolacce qua e quello era tutto quello che volevo dirvi di stare molto molto attenti ok e non dovrebbe mai succedere che un ragazzo io personalmente credo che se uno non ha ancora la capacità di fare questo tipo di investimenti così rischiosi come è utilizzare la leva per favore ci avete leva x1 andate a passi piccolini non fate il passo più grande della gamba per favore veramente è molto pericoloso poi ognuno fa quello che gli pare perché veramente è cosa di ognuno io lo capisco anche io ho fatto un sacco di cavolate come vi ho detto dai questo era quello che volevo spiegarvi puoi fare un video più avanti sul rischio spiegando meglio e preparato come vi ho detto e un'altra cosa vi posso dire è di prepararvi un diario di training farò un video anche a parte già con un diario già pronto che ve lo potete scaricare o anche una versione di Amazon ho pensato nel video quando stavo facendo in spagnolo che si possa comprare bello con la copertina di Lion Bull Academy potrei preparare anche uno per aiutare al progetto se qualcuno vuole prendere se no in pdf sarà sempre gratis ve lo stampate e basta non è che ci sia o lo lasciate in digitale sul tablet lo potete mettere qua e lo scrivete con la penna va bene c'è tanta roba che si può fare io per esempio adesso uso sempre questo per scrivere non neanche più spendo carta sì mi piace la carta però non la spendo neanche più così risparmiamo salviamo un po' il pianeta nel diario di trading dovrete quello che vi dico già poi faremo un video a parte però ve lo dico già dovrete scrivere almeno la data che avete aperto l'operazione che l'avete chiusa che attivo era la leva che avete usato la strategia o l'indicatore che avete usato l'umore che avete che notizie c'erano come vi sentite quando l'avete avete tutto un po' quello è l'importante che dovete scrivere va bene poi vi preparerò uno in pdf che lo potete utilizzare tutti penso che sia interessante è molto buono e se vi fate un giro in internet ce ne sono tantissimi già pronti però io voglio fare uno apposta di Lion Bull Academy per tutti quanti dai questo era tutto spero avviate capito un po' cosa è il rischio e come stare attenti se vi è piaciuto il video schiacciate il like commentate sotto la vostra esperienza come voi fate il rischio come lo controllate era anche da dirvi si quasi dimentico ricordate che il rischio è uno dei i pilari si dovrebbe dire vabbè uno delle basi del trading il rischio e la psicologia sono le più importanti ricordate sempre questo ok dai molte grazie un'altra volta like commentare e ricordate di susscrivervi che grazie a voi sto già cominciando a monetizzare anche Lion Bull Academy si può dire che già sto cominciando anche a lavorare con questo grazie tutto a voi veramente moltissime grazie per l'appoggio che mi state dando con i vostri like e le vostre susscrizioni e veramente grazie sono molto contento di come sta andando la cosa piano piano si risolverà tutto dai ciao ragazzi grazie a tutti